tranne il contenuto. Grazie Presidente. Allora, premetto che su questa mozione che sto per presentare durante i lavori d'aula ci siamo confrontati con le altre forze politiche e abbiamo raggiunto un accordo sul deliberato che ho consegnato poco fa agli uffici nella versione definitiva. Allora, parliamo di Parona Lomellina. Siamo in pianura padana, area sud-occidentale, un piccolo comune di 2.000 abitanti, in una zona in cui abbiamo diverse testimonianze naturalistiche di rilievo come per esempio il parco del Ticino, il parco del Po. Qualcuno avrà sentito parlare delle Garzaie, che sono colonie di aironi gregari, fra le più importanti d'Europa, peraltro, in questa zona. Purtroppo, dove è situato questo comune di 2.000 abitanti, ripeto, insistono anche aziende ad alto impatto ambientale, in particolare una e l'inceneritore di Parona Lomellina. Il lapsus è dovuto al fatto che la provincia di Pavia ha ben due dei 13 inceneritori lombardi ed è peraltro una provincia autosufficiente dal punto di vista dei rifiuti, per cui noi attualmente importiamo rifiuti dalle altre province per poter far guadagnare chi gestisce questi due inceneritori, che altrimenti sarebbero antieconomici. Dunque, la situazione, sia da un punto di vista di impatto ambientale che sanitario, è chiaramente drammatica ed è per questo motivo che il gruppo Movimento 5 Stelle si è fatto portavoce, letteralmente, delle istanze dei cittadini di Parona e dei comitati ambientalisti che operano in quest'area, in particolare il Comitato dei cittadini di Parona per la salute e l'ambiente. Abbiamo quindi presentato una prima mozione che, come vi dicevo, è stata modificata alla luce di un accordo raggiunto con le forze politiche in Aula e chiediamo innanzitutto di disincentivare con un intervento coordinato, anche attraverso gli appositi strumenti di pianificazione, l'insediamento di nuove aziende ad alto potenziale di inquinamento nel Comune di Parona. Per cortesia, vi prego di ristabilire un clima di lavoro. Sembra di stare in piazza. Al secondo punto, chiediamo alla Regione, alla Giunta, di impegnarsi a promuovere e sostenere il monitoraggio sanitario, che è molto importante, è previsto dall'AIA dell'inceneritore di Parona e di farlo attraverso misure idonee che individuino in maniera sempre più capillare, sempre più puntuale, gli effetti sulla salute delle singole fonti emissive che sono situate sul territorio paronese. Chiediamo poi di trasmettere agli uffici preposti di Regione Lombardia e della provincia di Pavia le necessarie indicazioni affinché i futuri provvedimenti autorizzativi delle aziende insediate o da insediare tengano conto delle prescrizioni introdotte dall'AIA dell'inceneritore di Parona, con particolare riferimento appunto al monitoraggio sanitario. Questo con la finalità specifica di costituire in questi bacini dei sistemi permanenti di monitoraggio integrato ambientale. Infine, chiediamo alla Regione di sostenere l'ente provincia di Pavia per la diffusione della raccolta differenziata, perché non solo abbiamo questo record dei due inceneritori in provincia di Pavia, ma purtroppo siamo anche fanalino di coda per la raccolta differenziata. Il nocciolo della questione e il punto per noi anche più importante e che non si rivolge solo al bacino territoriale di Parona, ma a tutti quelli interessati della Regione Lombardia è l'ultimo punto in cui preghiamo l'assessorato all'ambiente in fase di relazione del piano regionale dei rifiuti di orientarsi a razionalizzare questi impianti di incenerimento. Vale a dire, in quelle zone, in quegli ambiti territoriali dove c'è un oggettivo esubero impiantistico, come per esempio l'area di Parona Lomellina, occorre cominciare a ridurre la capacità di questi inceneritori, avvicinandosi a nuove tecnologie meno invasive da un punto di vista ambientale, quindi facendo anche degli studi relativamente a queste tecnologie, ma soprattutto, come appunto ci indirizza la comunità europea, andando sempre di più verso il riciclo, il riuso, lo smaltimento del rifiuto attraverso la creazione di centri come il modello Vede Lago, che appunto è situato in Veneto, regione qui confinante, e per il quale speriamo di poter vedere presto la creazione, personalmente, proprio in un'area come Favia, perché non solo tutela la salute e l'ambiente, ma crea occupazione, quando sappiamo che oltretutto questi inceneritori sono insediati, sarà una strana coincidenza, comunque in aree molto degradate da un punto di vista occupazionale, e quindi, diciamo, si abbina a un modello obsoleto di smaltimento del rifiuto anche a un modello insostenibile da un punto di vista occupazionale. Quindi noi speriamo che la Giunta regionale sempre più voglia accogliere questo nuovo modello di sostenibilità per la Regione Lombardia, andando appunto verso la raccolta differenziata porta a porta e la graduale dismissione degli inceneritori. Grazie. Sì, ovviamente nulla da eccepire da dire in ordine alla mozione così come c'è stata presentata dal Consigliere Nanni. Non mi sto a dilungare sulla situazione di Parona, non perché non meriti interesse, ma perché di questa situazione come di altre, oramai abbiamo già parlato molto. Questo da una parte a conferma dell'interesse e dell'attenzione che ci pone tutto il Consiglio regionale, almeno questo Consiglio regionale. dall'altra invece come appunto questi sono problemi che non sembrano risolversi mai, ma per cui stiamo lavorando. Solo due piccole segnalazioni e annotazioni. Prima di tutto la necessità che mi pare condivisa, ma che chiedo soprattutto a voi consiglieri pavesi di ribadire sui vostri territori, che anche la provincia di Pavia si attivi seriamente per quanto riguarda la raccolta differenziata, perché veramente tutte le volte che parlo di raccolta differenziata devo ricordare che il limite del quasi 51% in Regione Lombardia è dovuto al fatto che Pavia abbassa notevolmente la media, raggiungendo malapena il 30%. Quando le altre province sono ben sopra il 50% e ci sono comuni che vanno anche sopra il 60%. Questo mi spiace molto e devo dire però che in questo senso mi pare di aver trovato assolutamente la condivisione di tutti i rappresentanti del territorio pavese, quindi mi fa ben sperare per il futuro. Infine, mi permetta solo una battuta in chiusura, Presidente, ma soprattutto Consigliere Villani. Sai qual è il vero problema? È che è il problema di avere troppi inceneritori, troppi impianti. Ce lo poniamo solo noi lombardi, perché dalle altre parti dell'Italia si limitano semplicemente a dire che i loro rifiuti devono essere portati da un'altra parte. Noi ci abbiamo pensato, siamo stati forse scemi, scusate, stupidi in passato a pensarci troppo bene. Il problema è che adesso al massimo smaltiamo quelli del Lazio o di Napoli perché ce li fanno arrivare cambiandogli l'etichetta che hanno fuori, tra l'altro ovviamente scaricandone il costo su tutti i cittadini, compresi quelli lombardi che pagano due volte per gli inceneritori, per i loro rifiuti e per quelli degli altri. Grazie, Assessore Terzi. Grazie. Grazie.